La Fontana Consagra è uno dei primi obiettivi di questa amministrazione, finalmente si realizza. Sì, è vero, hai ragione, è stato uno dei nostri primi obiettivi, anche perché cadeva proprio per il centenario del maestro di Pietro Consagra. Ricordiamo che la ricorrenza del centenario è stata proprio il 6 ottobre 2020. Causa pandemia, ci sono stati dei ritardi, ma finalmente riusciamo oggi a riconsegnare alla città quest'opera. Siamo felicissimi, contenti. Oggi sarà una giornata dedicata al racconto del restauro, in tutti i suoi aspetti scientifici, e anche un racconto, una sorta di cronaca che racconta appunto il restauro complesso che è stato compiuto su quest'opera. Ricordo a tutti invece che a causa del maltempo abbiamo dovuto rinviare lo spettacolo che avevamo così organizzato proprio per la cittadinanza al prossimo sabato 18 dicembre. Io quindi vi aspetto tutti sabato prossimo 18 dicembre alle 17 in piazza per accendere insieme la fontana e gli zampilli che il maestro aveva congegnato per questa fontana. Lei ha già visto la fontana, che differenza ha visto tra prima e adesso? La differenza è abissale in quanto sono andate via tutte le parti ammalorate, tutta la parte rovinata dalla salsedine, dalle concrezioni di calcare, quindi ha riconquistato la sua antica conformazione. Ma soprattutto la cosa più importante è che la fontana muta ha ripreso a zampillare. Gli zampilli sono la parte più importante, Consagra lo diceva sempre, questa fontana senza l'acqua non ha motivo di esistere. Le direzioni degli zampilli sono stati pensati e immaginati proprio per quel tipo di direzioni.